Salve da Agropalati! Oggi ho lavorato nel bosco di Eucalipto. Quando sono tornato ho dovuto preparare qualcosa da mangiare, come tutte le volte. Ho cercato nel congelatore, c'erano dei broccoli congelati, l'ho preso, l'ho scongelato e ho preparato questo bellissimo piatto di pasta. Ci sono anche dei fagioli teneri e anche ho messo la fininula. Questo nostro salame tipico, nostro calabrese, che è di nicchia, ma veramente molto molto interessante. Si addice molto a questo piatto. Una bella spolverata di formaggio, della salsa biologica delle macchie e piatto è fatto. Un buonissimo piatto da gustare con un bellissimo bicchiere di vino rosso di tipo magliocco. A lei, alla prossima occasione da Michele Expert.